Benvenuti a Motore Salute Europa. Le novità di oggi sono gli studi sull'ictus. In particolare sono stati oggetti di un importante congresso internazionale e noi siamo stati lì per voi e abbiamo intervistato il dottor Boncoraglio. Settiamo che cosa ci ha spiegato. Dottor Giorgio Boncoraglio della Fondazione IRCS e Istituto Neurologico Carlo Bestia di Milano. Avete organizzato un importante workshop internazionale sull'ictus cerebrale. Cosa è emerso? In questo workshop è stata sottolineata la componente genetica dell'ictus cerebrale, una patologia molto comune in Italia, la terza causa di morte, la prima causa di invalidità permanente. In particolare la parte genetica è importante nei soggetti più giovani, che sono quelli colpiti in modo più invalidante. Lei ha organizzato anche questo workshop all'interno proprio del suo progetto di ricerca. Che cosa riguarda? Il mio studio, che è stato finanziato dal Ministero della Salute nel 2012 nell'ambito dei progetti giovani ricercatori, riguarda proprio lo studio della genetica dell'ictus ischemico. L'abbiamo completato all'Istituto Besta e abbiamo arruolato 400 pazienti che sono stati studiati con delle nuove metodiche ad ampio spettro per lo studio del DNA. E con i risultati del nostro studio abbiamo contribuito a confermare i risultati ottenuti negli altri studi dei ricercatori esteri che hanno partecipato a questo workshop. In base al suo studio, la componente genetica, che tipo di utilizzo può avere per una cura migliore dell'ictus cerebrale? Conoscendo i fattori predisponenti genetici è possibile attuare delle terapie preventive più mirate e ritagliate sul singolo paziente, nell'ottica proprio di una medicina cosiddetta personalizzata.